Nell'opera di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, il protagonista conduce una vita abbastanza ordinaria. Fa ciò che la società gli dice di fare, sposa una donna che non ama, conduce una carriera da giudice, finché sul letto di morte gli perviene l'inquietante dubbio che tutta la sua vita sia stata costruita sulle basi sbagliate. Tolstoi ci mostra che persino in punto di morte, alla fine di una vita apparentemente sprecata e priva di valori, ci si può elevare spiritualmente al di sopra della propria condizione e trovarvi un significato. Non penso però sia consigliabile fare come Ivan Illich e aspettare l'ultimo giorno della propria vita per riflettere sulle proprie scelte e i propri valori. Dobbiamo perciò assicurarci di stare costruendo la nostra vita su solide basi, sulla base di chi siamo e di ciò che realmente riteniamo importante e non su una finzione adottata per compiacere gli altri e la società. Non possiamo tradire noi stessi, rinunciare ai nostri valori e desideri autentici per andare incontro al giudizio altrui. La lettura di quest'opera mi ha suscitato la seguente riflessione. È possibile morire senza rimpianti? Penso innanzitutto che la nostra migliore opzione sia confrontarci quanto più spesso possibile con l'idea della nostra mortalità. Se c'è qualcosa che vogliamo davvero realizzare, facciamolo quanto prima. Se ciò che facciamo invece non ci gratifica, né è in armonia con i nostri valori, smettiamo di farlo. Come diceva Albert Camus, non aspettare il giudizio finale, arriva ogni giorno. Con questo video non voglio esortarvi ad un cieco segui il tuo cuore, ma un tenta di fare del tuo meglio per migliorare la tua vita e quella delle persone che ti stanno intorno. Alla fine dei nostri giorni, penso che la domanda che ci faremo sarà essenzialmente se abbiamo tentato di rendere questo mondo un posto un po' migliore o un po' peggiore. È questo che importa realmente. Non importa se riuscite a realizzare grandi progetti o se fate una vita perfetta. L'importante è che non inganniate voi stessi, che non tradiate i vostri valori e che tentiate di lasciare un'impronta positiva su questo pianeta. Se da oggi in poi tentate di fare del vostro meglio, concentrandovi solo su ciò che è in vostro potere per realizzare i valori che vi abitano, che cosa potreste mai rimpiangere? Grazie.